Restituiti alla collettività alcuni importanti elementi dell'albero d'oro di Lucignano, capolavoro dell'oreficeria italiana sino ad oggi dispersi. Adesso l'albero d'oro subirà un importante restauro affidato all'opificio delle pietre dure di Firenze grazie ad un finanziamento della regione toscana. Tutto era partito appunto da un recente ritrovamento grazie alla collaborazione del nucleo Carabinieri per la tutela dei beni culturali di Firenze. Alcune importanti porzioni del cosiddetto albero d'oro colossale reriquiario, considerato tra i capolavori assoluti dell'arte orafa italiana, sono stati recuperati ad oltre 100 anni dal furto che risale al 1914. Ad essere rinvenute sono state, ha dichiarato il comandante Mauti, 4 placche in rame dorato e argento smaltato, 16 ex voto in argento, un tempo collocati sulla base, una miniatura su pergamena e un cristallo di rocca molato. Il rinvenimento attuale obbliga appunto ad una revisione della ricomposizione realizzata negli anni 30. Nel ringraziare la regione toscana per aver deciso di finanziare l'intervento di restauro, la sindaca di Lucignano, Roberta Casini, ha auspicato che possano riemergere le parti ancora mancanti, in particolare il Cristo che domina il reliquiario.